Avviso scoperto, l'informazione senza velli con Matteo De Micheli. Buonasera, siamo in una struttura qui a Roma dove si svolgerà tra poco una riunione del piccolo resto guidato da Don Minutella. E siamo insieme a Don Enrico Bernasconi e Don Ramon Guidetti, entrambi del piccolo resto guidato da Don Minutella. Innanzitutto grazie di aver accettato questa intervista. Grazie a voi. Prima di entrare nel vivo dell'intervista, dietro di noi c'è un altare. Allora, Don Bernasconi, cosa ci fa un altare dentro una struttura così? E soprattutto è vero che voi fate la messa a Betu Sordo, quindi il sacerdote non è rivolto verso i fedeli, ma verso Dio. Quindi al centro c'è Dio di questa messa. Sì, questa è una bella domanda. Come prima domanda, noi ci troviamo in una struttura di albergo per celebrare oggi la Candelora, per celebrare le confessioni, la Santa Messa, poiché siamo stati scacciati dalla chiesa, quella chiamata istituzionale. Non ce ne siamo andati noi, ma siamo stati scacciati. Come i primi apostoli venivano cacciati dal Tempio. Proprio negli Atti degli Apostoli si legge che i primi apostoli venivano scomunicati dal sinedrio degli ebrei, poiché ritenevano la nuova dottrina, così la chiamavano, il cristianesimo incompatibile con l'ebraismo. Ecco, la stessa cosa accade a noi. Non più la sinagoga dei farisei, non più la sinagoga del tempo di Gesù, ma la falsa chiesa. La falsa chiesa, quella che l'Apocalisse chiama la sinagoga di Satana. Scaccia i veri apostoli e quindi siamo costretti a celebrare come facevano i primi cristiani. Quando non c'erano ancora le chiese, i templi, si ritrovavano essenzialmente nelle case, nelle famiglie dei più abbienti, per celebrare la Santa Messa. Quello che Gesù ha detto nel Giovedì Santo, fate questo in memoria di me, cioè la Santa Messa, gli apostoli hanno iniziato subito a farlo. E così oggi noi non abbiamo più le strutture, non abbiamo più le chiese, il Tempio fatto di mattoni, ma celebriamo le messe nelle case, nelle famiglie, negli alberghi, e nei luoghi privati dove il Signore ci manda e così siamo uniti in modo speciale proprio allo spirito delle origini. Ecco, in questa chiesa di Bergoglio, che ormai abbiamo imparato a conoscere, dice di essere la chiesa della misericordia, ma la misericordia sembra esserci solo verso coloro che tradiscono la tradizione e vanno contro il Vangelo. L'esempio più recente è questa fiducia supplicans e il Cardinal Fernandez. Ma sono tanti purtroppo le persone che nella chiesa vanno dicendo eresie e chi invece rimane fedele alla tradizione, chi difende il Vangelo, viene punito. E l'ultimo caso eclatante è quello di Don Ramon Guidetti. Adesso io leggo una piccola introduzione per spiegare agli amici che ci seguono da casa se non conoscessero la storia e poi gli faccio una domanda perché... Allora, lei è stato scomunicato per aver sostenuto durante un'omelia che Papa Francesco non è il Papa, ma è un usurpatore. Il 31 dicembre 2023 è il giorno in cui si ricordava il primo anniversario della morte di Papa Benedetto XVI e l'atto di scomunica è arrivato il giorno successivo. Questa è una scomunica lampo. Nell'omelia dell'ultimo giorno dell'anno lei ha detto lo scorso 17 dicembre in un santuario vicino a Buenos Aires in cui è stato arcivescovo l'innominato, ovvero Papa Francesco, un fulmine ha colpito la statua di San Pietro, ne abbiamo parlato anche recentemente in trasmissione. E cosa è andato ad incenerire? L'aureola e le chiavi. L'aureola perché Pietro non è più santo, perché c'è un gesuita massone legato ai poteri mondiali, un usurpatore antipapa e le chiavi perché quelle se le è tenute il buon Benedetto, ovvero Papa Ratzinger. E adesso le faccio questa domanda. Perché dopo tanti anni ha deciso di uscire allo scoperto in modo così eclatante e prima di scomunicarla gli hanno dato il diritto e la possibilità di difendersi? Allora, perché dopo esattamente quattro anni? Compresi che Bergoglio, che io chiamo sempre l'innominato, a un certo punto poi ho smesso di nominarlo, L'innominato non era Papa, l'ho capito all'inizio della pandemia, quindi siamo nel 2020. Grazie anche alla, soprattutto, c'era già stata la presa di posizione di Don Alessandro Minutella nel 2017, però ecco, la chiave di volta fu proprio questo magno che sta portando avanti da quattro anni il dottore Andrea Cionci. Quella è stata, diciamo, la chiave di volta. E ho aspettato il momento giusto, ho aspettato il momento in cui il Signore, perché io, fino a prova contraria, cerco di fare la volontà del Signore, e in cui il Signore mi ha fatto capire che dovevo fare quel passo. Allora, a differenza dei miei confratelli, in realtà, io non sono stato scacciato, ma scelsi io di andare via. E decisi di fare questo passo, di uscire, una volta per tutte, riunendomi con gli altri confratelli. Decisi di fare l'ultima messa in parrocchia a Guasticce, il 31 dicembre, che, guarda un po', era l'anniversario della morte di Papa Benedetto. Fu tutto casuale, perché non scelsi appositamente di andare via il 31 dicembre, perché era l'anniversario, ma per ragioni pratiche. E in quella famosa omelia misi tutto sul piatto, e quindi disse chiaramente chi era questo innominato. Disse, usai proprio queste parole, usurpatore, gesuita, massone. Perché era il momento di uscire fuori. Per ognuno di noi c'è un momento giusto. Per me era questo. Certamente io, così sconosciutissimo parroco di Campania, in una parrocchia di 1400 anime, andare a rifinire con la propria faccia su tutti i giornali nazionali, e addirittura anche essere intervistato da un quotidiano americano, certamente questo non l'avrei mai pensato. Però evidentemente vuol dire che era il momento giusto. Era il momento giusto che io dicessi quelle parole, tutte piovute dallo Spirito Santo, perché io l'omelia non l'avevo preparata, ma poi ho lasciato fare a lui. E quindi ecco che subito, il giorno dopo, arriva questa meravigliosa scomunica, di cui ancora devo fare la famosa cornicina, il quadretto, passando dunque come lo scomunicato più veloce nella storia della Chiesa. L'attestazione che io ho detto la verità, come Don Alessandro, qualche anno prima di me, come Don Enrico e gli altri confratelli del sudalizio mariano. Aspettiamo che qualcun altro, qualche altro confratello, faccia lo stesso. C'è qualche movimento in qua e in là, ce n'è stato uno in Toscana recentemente, ne è uscito fuori uno anche in Sardegna. Aspettiamo che qualche altro confratello faccia lo stesso, consapevole del fatto che nel momento in cui si proclama qualcosa che non è una interpretazione, non è una teoria, ma basandosi su dati di fatto, cioè sulla declarazio di Benedetto XVI, in latino, basandosi sui canoni del codice ditto canonico, 331, 32, 33, 34, basandosi sulla Costituzione Apostolica Universi Dominici Grecis, 2 più 2 più 2 uguale 6, per semplice logica si arriva a capire che Benedetto XVI non ha mai ceduto quel Benedetto Munus, se l'è portato nella tomba, anzi come disse nell'Omelia, lo consigliò direttamente al vero sommo pontefice che è il nostro Signore Gesù Cristo. E che quindi colui che siede ora sul trono petrino è quel famoso vescovo vestito di bianco di cui parla il terzo segreto di Fatima. È l'usurpatore, è colui che usurpa il trono di Pietro. E la fiducia supplicans è l'ennesima usurpazione, è l'ennesimo rovesciamento della verità di Cristo. Ed è l'ennesimo atto scismatico, è la continuazione di uno scisma che è iniziato dieci anni fa, con quel meccanismo di anti-usurpazione di cui parla Dottor Cionci, per cui Benedetto XVI con quel fasullo conclave si è fatto mettere in sede impedita e quindi ecco che è avvenuto lo scisma. Uno scisma che ora è, come dire, potremmo dire che è ufficioso, ma il mezzo episcopato sa perfettamente che siamo all'interno di uno scisma. I cardinali lo sanno che siamo all'interno di un scisma. Non è che Don Ramono, Don Enrico o Don Alessandro un giorno si alzano e dicano ecco Bergoglio non è il Papa. Questa verità purtroppo è a conoscenza di tutti i vari gradi della gerarchia ecclesiastica. E questa è la cosa più vergognosa. Che questa verità che si evince dai documenti che ho appena citato, confermata poi anche da undici anni di pseudo pontificato dove Costui, l'innominato, si sta facendo di cotte di crude, se vince tutto questo Costoro sanno perfettamente quello che sta accadendo e tengono i fedeli all'oscuro. Quindi devono essere i fedeli che devono capire per i fatti loro come sta la verità. E qui avviene di fatto la scrematura, l'epurazione, come dice anche Diago Fusaro. Qui avviene la selezione. Chi ha orecchie per intendere, intenda, chi ha occhi per vedere, veda. E come dissi io nell'Omelia, quella famosa, chi ha la bocca per gridare, gridi. Ed è quello che noi, otto sacerdoti e Zolaizio Mariano, stiamo facendo e continueremo a fare fino alla fine, fino alla morte. E questa è la nostra missione. Perché noi amiamo Cristo e amiamo la Chiesa. Quella Chiesa che, come diceva Don Enrico, è quella Chiesa che ora si trova a riunirsi come duemila anni fa, negli scantinati, nelle case, nelle ville. Perché la Chiesa non è più legata alle strutture, ma è legata alla fede di coloro che credono, i veri credenti, pochi sacerdoti e poi migliaia e migliaia di fedeli che si fanno anche chilometri, chilometri, chilometri. Questo è il bello di questa Chiesa, della vera Chiesa, affamata di sacramenti, che si fa 100-150 chilometri per venire a confessarsi e per nutrirsi della Santa Eucaristia. Noi siamo gli scacciati, siamo i reietti, ma siamo i reietti dagli apostati, ma non saremo reietti dal Padre Celeste, non saremo reietti dal Regno dei Cieli, che ora noi siamo chiamati qua ad aspirare, a desiderare, a bramare in questa vita, in questo tempo, in questo frangente storico in cui noi dobbiamo tribolare, ma noi sappiamo che stiamo tribolando, siamo perfettamente coscienti che stiamo tribolando e lo accettiamo, perché come dice il Signore che porta la croce, chiunque vuol venire dietro a me si prende la sua croce ogni giorno e mi venga dietro. Noi sappiamo di essere dalla parte della verità e quindi siamo ben disposti a tribolare, a soffrire, perché amiamo la verità, che è solamente Cristo. Ecco, allora, le faccio un'altra due domande, le chiedo una risposta breve, che poi passiamo a Don Bernasconi. La prima è, io ho ascoltato la sua omelia, i fedeli alla fine l'hanno applaudita, qual è stata la reazione? Ci sono dei fedeli che la stanno seguendo nel piccolo resto e se le hanno dato la possibilità di replicare, immagino di no, ma di difendersi della chiesa. Allora, molte persone, diverse persone della parrocchia, sì, mi stanno seguendo, si sono avvicinate, qualcuno è entrato, si è inserito all'interno del piccolo resto, qualcun altro ancora non l'ha fatto, ma segue le mie, le mie vicende e comunque già seguiva Don Alessandro da diversi anni e ha compreso la situazione. Poi certamente purtroppo la stragrande maggioranza delle persone non ha ben compreso quello che io ho fatto, quello che io ho detto e quindi vive, continuano a naspare in questo totale disorientamento, per cui non hanno ben capito la scelta che ho fatto, per cui io passo per quello che divide, per quello che allontana, per quello che semina confusione, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ovviamente c'è stata anche una piccola frangia di parrocchiani che mi hanno mosso guerra anche gli ultimi giorni, andarono dal vescovo, si lamentarono, poi mi affrontarono direttamente, ma quello insomma uno tira a diritto, se ne frega altamente di quello che questi dicono, prega per loro perché costoro sono quelli che sono sotto la potenza dell'inganno di cui parla la seconda lettera ai tessalonicesi. Sono sotto questo inganno e anche se gli spiattelli davanti la verità nuda e cruda purtroppo ancora non la comprendono e quindi preghiamo per la loro conversione. Certamente il vescovo, ora ricordandomi della domanda precedente, il vescovo non mi ha dato possibilità di rispondere, lui semplicemente ha preso una posizione perché doveva difendere i propri interessi, detto crudo e nudo. E quindi sacrifichiamo un sacerdote pur di difendere i propri interessi, così come purtroppo fanno anche tanti altri membri dell'Episcopato. Ecco, la stessa cosa, noi abbiamo fatto un'intervista con Don Enrico Bernasconi e era successa a lei perché è stato scomunicato e non le ha dato la possibilità di replicare. Le volevo chiedere, insomma, se vuole accennare anche un pochino la sua storia, poi come va il piccolo resto? Ci sono delle novità, delle nuove iniziative? Certo, sono le stesse dinamiche, confermo quello che ha detto Don Ramon, sono sempre le stesse dinamiche, quindi noi siamo quelli che dividono, noi siamo quelli che allontanano i fedeli dai sacramenti, siamo quelli che siamo settari, siamo scismatici, eretici, ma il problema, come dicevo anche nell'altra volta, proprio nell'intervista con lei, è che la Chiesa non ha mai agito così, la Chiesa prima di scomunicare, prima di dare sanzioni, ha sempre analizzato il pensiero dell'eventuale eretico, scismatico, allora noi diciamo che Bergoglio non è il Papa, dall'altra parte usano il codice di diritto canonico per dire che noi siamo contro il Papa e quindi meritiamo la comunica all'ate sentenzie, però non rispondono a quello che noi diciamo con le prove che portiamo, quindi dovrebbero se fossero onesti prendere in considerazione prima quello che diciamo e smentirlo pubblicamente, confutarlo per difendere anche il greggio di Dio perché in questo dimostrano che non interessa niente a loro del greggio di Dio perché se no li metterebbero in guardia pubblicamente da noi l'autorità e direbbero dove stiamo sbagliando ma in questo dimostrano che hanno un piano da portare avanti e quindi quello vogliono perseguire e tutti tutti coloro che si oppongono devono essere eliminati messi a tacere e come diceva San Paolo sin dalle origini riguardo alle sue comunità diceva noi siamo perseguitati siamo noti e tutti ci conoscono ma fanno finta che non esistiamo ecco la stessa cosa accade anche a noi ormai siamo noti a tutti tutti sanno quello che diciamo ma fanno finta che non esistiamo e al posto che rispondere che rispondere alle argomentazioni che portiamo ci screditano ecco vanno sul personale quindi vanno su un altro livello su un altro piano certo come dicevo il piccolo resto ci sono delle novità come sta andando c'è nuove iniziative allora no nuove iniziative in particolare non ne abbiamo ecco abbiamo l'appuntamento dell'11 febbraio che è stato già pubblicizzato da Don Alessandro e ci troveremo a Milano sarà un raduno molto molto partecipato e sì noi più che altro preghiamo il Signore ecco che che possa mandarci altri sacerdoti preghiamo per la liberazione del trono di Pietro quindi non preghiamo per Bergoglio per la sua falsa chiesa preghiamo per la liberazione che il Signore ci liberi al più presto da questa impostura senza precedenti poi il giudizio certamente lo rimandiamo a Dio non siamo noi a dare il giudizio a giudicare ma stiamo lavorando per questo per la liberazione del trono di Pietro e allora siamo pieni di speranza certo guardando guardando in avanti siamo pieni di speranza perché sappiamo come ha detto Papa Benedetto XVI prima di fare quell'atto della declaratio nei suoi ultimi discorsi la Chiesa è di Cristo la Chiesa non è nostra quindi sappiamo che il Signore stesso guarda alla sua vera Chiesa la protegge la guida e poi interverrà quindi a noi è chiesto semplicemente di dare la nostra testimonianza di fede di non perdere la fede cattolica e poi il resto appartiene appartiene al Signore ecco io tante volte mi scontro un po' con certe persone che mi dicono sì Cionci ha fatto questo lavoro ma io non ci credo secondo me Bergoglio e Papa e quant'altro io rispondo ma questo è un Papa che è eretico cioè è in dubbio che è eretico e non è da oggi lo è da diverso tempo e c'è San Paolo disse no se anche un angelo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che è scritto sia anatema e per le leggi della Chiesa Bergoglio dovrebbe essere processato e giudicato eretico quindi manca solo il fatto che questo non avviene cioè non viene giudicato non viene giudicato per le sue eresie ma di fatto questo fa sì per le stesse leggi della Chiesa che non sia Papa tra l'altro scusi se mi permetto la parola anatema significa proprio nella sua etimologia significa sia scomunicato quindi se un angelo dal cielo insegna un Vangelo diverso sia scomunicato cioè è fuori dalla comunione della vera Chiesa quindi l'eretico si mette fuori è scomunicato si mette fuori da se stesso dalla comunione ecclesiale quindi anche se per pura ipotesi Bergoglio fosse il Papa ma eretico non cambia nulla perché è scomunicato quindi Bergoglio è scomunicato sia perché è stato eletto invalidamente con delle trame nascoste orchestrate dalla cosiddetta mafia di San Gallo che sappiamo e anche per il fatto che è eretico e quindi un eretico si mette fuori lui stesso dalla comunione ecclesiale A proposito di eresie l'ultima è quella di fiducia supplicans cosa ne pensa? Poi passiamo ad un ramo Sì certo come diceva prima la radice del problema è proprio il concetto di falsa misericordia e viene presentata oggi una misericordia che non è quella secondo secondo l'insegnamento della Chiesa e secondo la rivelazione di Cristo perché in Cristo abbiamo la manifestazione massima della misericordia di Dio oggi si predica una misericordia a buon mercato una misericordia di Dio che diventa però un concetto essenzialmente umanitario mi viene in mente quello che diceva il cosiddetto cardinale Raniero canta la messa lui disse in un'intervista disse la misericordia di Dio ha un volto antico che è il volto di Gesù Cristo e ha un volto nuovo che è il volto di Papa Francesco ecco Papa Francesco è stato messo al posto di Gesù Cristo quindi può fare e dire quello che vuole e quindi può predicare un falso concetto di misericordia quindi in nome della misericordia della bontà si cambia e si cambia la dottrina si cambia la morale si cambia la prassi ecclesiale e allora può uscire un documento come la fiducia supplicans dove viene permessa la benedizione delle coppie delle coppie omosessuali con certamente un artificio uno stratagemma quello di dividere la benedizione liturgica dalla benedizione pastorale ma questo la Chiesa non l'ha mai insegnato questo è un insegnamento nuovo questo è qualcosa che è inconcepibile poiché il sacerdote non benedice in nome proprio il sacerdote benedice sempre in nome di Dio e quindi non può benedire qualcosa che Dio non approva e allora in questo Bergoglio dimostra di agire in prima persona lui è la sua falsa Chiesa senza più nessun riferimento a Gesù Cristo danno la benedizione senza tener conto della parola di Dio del Magistero della Chiesa della tradizione di duemila anni allora questo è un insegnamento un insegnamento nuovo e si realizza pienamente quella parola della seconda lettera ai Tessalonicesi dove si dice che l'uomo iniquo entrerà e siederà sul trono stesso di Dio e sarà acclamato lui stesso come Dio questo sta avvenendo proprio sotto i nostri occhi Don Ramon su fiducia supplicans però finalmente e per la prima volta è scoppiata una mezza rivolta dai vescovi africani quello di Hong Kong poi l'Olanda la Francia il Perù moltissimi sacerdoti addirittura e alcuni cardinali e quattro sacerdoti spagnoli hanno addirittura lanciato una petizione su change.org per chiedere appunto il ritiro di fiducia supplicans è l'inizio secondo lei di una presa di coscienza collettiva o è semplicemente la goccia che ha fatto traboccare il vaso? ma io personalmente secondo me sono tutti fuori di testa perché cioè voglio dire come dice anche Don Alessandro giustamente cioè è il Papa e cosa fai lo obbedisci ma se ti dici qualcosa contro il Vangelo cosa fai? disobbedisci ma allora c'è qualcosa che non va ma questi vescovi che dicono disobbediamo al Papa ma non sono così sono più ridicoli di tutti perché dovrebbero dovrebbero un attimino prendere posizione su un altro versante che è quello della legittimità o meno del Papa non stare a dire se la dichiarazione va bene o non va bene intanto si è capito benissimo che c'è un programma un'agenda da portare avanti di smantellamento del cristianesimo e questa è l'ulteriore etapa quindi oltretutto poi questa levata di scudi dei vescovi non è che ce ne sia stata poi più di tanto perché secondo me qui si assiste un'altra volta all'ennesimo esempio di come dire si ha detto qualcosa di strano si ha detto qualcosa che nel Vangelo non c'è però poi si andiamo avanti andiamo avanti a forza di dire andiamo avanti quello continua a disintegrare sempre di più il Vangelo e ci abituiamo al Vangelo disintegrato cioè è l'addormentamento poi voglio vedere poi il giorno in cui cambieranno le parole della consacrazione se diranno qualche cosa come dovrebbero dire quindi secondo me la presa di coscienza cioè è un po' per come si suol dire per pararsi un po' scusate il tema nel fondo schiena se fossero persone serie se fossero veramente pastori del Signore dovrebbero dire quello che è veramente la verità Bergoglio non è il Papa e la facciano finita con questi teatrini perché sono veramente ridicoli a Livorno c'è il vernacolo ecco potrebbero fare benissimo il vernacolo livornese da quanto sono veramente comici ecco intanto voglio dire al pubblico che ci segue da casa in televisione che qui davanti a noi c'è un bellissimo pubblico che salutiamo e ringraziamo di essere qui che poi insomma dopo proseguirà le attività del piccolo resto sempre Don Ramon Guidetti passiamo un po' a quelle che sono state delle dichiarazioni che io veramente quando ho ascoltato in diretta quando mi riferisco all'intervista da Fazio ho veramente sofferto lì Francesco ha ribadito che il perdono è per tutti che Dio non si stanca di perdonare perdona sempre per lui il problema è che gli uomini si stancano sono gli uomini che si stancano di farsi perdonare il cuore indurito diventa capace di chiedere perdono ha aggiunto Bergoglio dicendo che il Signore è un pazzo d'amore domanda ma il perdono non è riservato chi si pente sinceramente dei suoi peccati e si affida a Gesù? infatti se ci ricordiamo una delle modifiche del messale di alcune formule era una del gloria gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra gli uomini di buona volontà viene trasformato in amati dal Signore quindi cosa viene messo in evidenza Dio ti ama poi te stai fermo lì tanto Dio ti ama così come sei non c'è più la buona volontà la buona volontà vuol dire la risposta dell'uomo di fronte all'amore di Dio l'uomo risponde con il proprio amore e risponde attivamente positivamente tendendo con la volontà verso il Signore si elimina la risposta quindi si elimina la responsabilità morale per cui uno può tranquillamente stare nel peccato perché il peccato non esiste non esiste manco la grazia e l'inferno è vuoto tanto so che ve lo faceva la domanda sull'inferno quindi ho anticipato e quindi ecco fa parte di una di una ideologia fa parte di una nuova religione dove il Vangelo così il pseudo Vangelo dalle porte è larghe non importa non importa rispondere al Signore tanto Dio ti ama e al Signore va bene così ti perdona sempre in realtà ci vuole il pentimento e il pentimento sincero il pentimento la contrizione perfetta altrimenti il paradiso lo vediamo da lontano nei denti lo vediamo il paradiso e quindi c'è proprio una distorzione diabolica del messaggio cristiano della salvezza di Cristo Don Bernasconi allora riguardo alla punizione divina anche lì insomma Bergoglio la paragonata a una punizione di mamma e papà col bambino quando gli danno qualche penitenza per correggerlo allo stesso modo il Signore castiga per correggere e poi ho utilizzato una metafora una sculacciata di genitori ad un bambino dicendo che fanno più male le mani dei genitori quando lo sculacciano al bambino piuttosto che il sedere al bambino se non esiste una punizione divina allora uccidere non è forse peccato non esistono i peccati mortali e il timore di Dio che fine ha fatto? Sì certo come ha accennato Don Ramon il problema di fondo è che non esiste più il peccato se voi ci fate caso leggendo i discorsi la parola peccato non compare non compare mai quindi si si cerca di dire in altri termini quello che invece va detto in termini chiari che la Chiesa ha sempre ha sempre predicato e quindi mi viene in mente quello che diceva Monsignor Fulton Sheen nelle sue profezie straordinarie diceva la logica dell'anticristo è molto semplice lui si presenta come il grande umanitario il benefattore dell'umanità così come Satana si presentò ad Adamo e Deva come un benefattore colui che ne sapeva ne sapeva di più colui che poteva dare dei benefici all'umanità all'uomo la logica dell'anticristo è molto semplice dice Monsignor Fulton Sheen se non esiste più un paradiso non esiste più l'inferno cioè se non si parla più delle realtà del cielo e non si parla più del paradiso allora non esiste neanche più l'inferno se non esiste più l'inferno non esiste più neanche il peccato non esiste il peccato e se non esiste il peccato non c'è più il giudizio non c'è più nessun giudizio e quindi il bene può essere chiamato male il male può essere chiamato bene possono essere interscambiabili e così si crea il relativismo totale questo è quello che la falsa chiesa sta portando a compimento proprio la dittatura del relativismo quello che Papa Benedetto diceva a chiare lettere da cui ci metteva in guardia stati attenti diceva alla dittatura del relativismo e così anche per esempio per il fatto per il fatto di quello che Bergoglio ha detto sempre nell'intervista con Fazio facendo credere che lui preferisce pensare che l'inferno non esiste ecco lui dice il dogma afferma questo ma a me piace pensare piace pensare altro mi piace pensare che l'inferno non esiste e mi piace pensare che tutti si salvano allora capite qual è l'intento di fondo l'intento di fondo è quello di creare il relativismo il dogma è una verità assoluta nella quale bisogna credere è una verità certa che non può essere messa in discussione allora capite se un Papa è uno che chiamano Papa mette in discussione un dogma di fede una verità assoluta dicendo il dogma dice questo ma io preferisco credere altro capite che l'intento è quello di di portare il relativismo e quindi la dottrina è un ideale ma la vita è un'altra cosa è la vita pratica è un'altra cosa quindi la morale i concetti i comandamenti sono sono alti ma ma noi siamo peccatori e quindi quindi si crea il relativismo sia dottrinale sia morale e questo ha alla radice proprio l'opera della massoneria la massoneria lavora già da tanti decenni proprio per smontare smontare i dogmi smontare la morale smontare la pretesa di verità assoluta che appartiene che appartiene alla fede cattolica e allora Bergoglio ecco dice per riprendere la domanda dice che non è non esiste il castigo di Dio non esiste quello lascia intendere dicendo il peccato è qualcosa di banale invece il peccato è la tragedia il peccato è la tragedia dell'umanità e quando parla di guerre quando parla di ecologia non fa mai riferimento alla radice di tutto cioè al peccato se ci sono le guerre se il mondo va in una certa direzione se c'è la crisi ecologica la crisi immigrazionista e così via tutte queste cose è perché c'è c'è il peccato quindi quella è la radice di ogni problema allora la falsa chiesa cerca invece di risolvere tutto in modo orizzontale e in modo umanitario e in questo Bergoglio e i suoi compari massoni si dimostrano di essere dei politici e non degli uomini di Dio quindi che cercano il consenso cercano la maggioranza e anche usano il potere il potere mediatico il potere politico per imporre le loro ideologie certo poi con questo modo di fare Bergoglio confonde i fedeli perché lui spesso fa delle citazioni anche del Vangelo ma per darsi ragione ma ne omette altre che magari dicono esattamente il contrario di quello che lui afferma e tutto questo insomma sicuramente porta in questo modo i fedeli lontano da quello che è la volontà di Dio e li porta verso quello che invece è la volontà del demonio insomma li avvicina più verso il demonio che verso Dio e questa negazione poi anche dell'inferno è evidente che se uno nega l'inferno nega anche il demonio e mai come oggi l'opera del demonio è visibile a tutti insomma almeno a quelli che hanno occhi per vederlo Don Ramon Guietti le faccio un'altra domanda sull'inferno vuoto ma se vuoto se no passiamo oltre lui dice appunto piace pensare che l'inferno sia vuoto ecco questa però è una menzogna bella e buona perché l'inferno esiste ed è citato più volte nelle Sacre Scritture o sbaglio? Sacre Scritture anche in tante rivelazioni di varie mistiche e mistici quindi anzi lo descrivono proprio come un luogo bell'affollato e ahimè anche di consacrati vescovi cardinali e sacerdoti e quant'altro quindi in realtà il ecco la la furbizia di quest'uomo quest'uomo chiamiamolo uomo è quella di mettere diciamo dei così delle falsità facendole passare per opinioni personali abituando le persone proprio alla falsità alla menzogna quindi l'inferno vuoto come detto prima fa parte di quel pseudo cristianesimo di quella di quella di quella falsa religione per cui in realtà ecco non c'è niente che abbia a che fare con la condanna ma se uno guarda alle sacre scritture basterebbe anche solo quelle e quindi come sempre bisogna sempre fare riferimento alle sacre scritture alla tradizione della chiesa con l'insegnamento dei padri e quant'altro poi ci aggiungiamo anche ai mistici in realtà abbiamo più che sufficienti elementi per aver timore di andare all'inferno e quindi invece di desiderare invece di stare nella grazia di avere di non ridirsi di fronte al peccato e di desiderare il paradiso e ancora una volta però ecco anche questo dimostra chiaramente questa grande potenza di inganno che va a muovere sulle coscienze di coloro che purtroppo però sono stati indottrinati abituati a non rapportarsi mai con le sacre scritture e quindi vuol dire che c'è un'ignoranza della sacra scrittura che da tanti decenni che adesso ora evidentemente ha preso tutta la sua diciamo mostra tutto il suo potenziale c'è un popolo di Dio che purtroppo non è stato abituato a leggere a meditare le sacre scritture e quindi si va poi a credere alle favolette come dice anche il nostro signore di quelli che sono vestiti da agnello ma dentro sono lupi rapaci ma il cristiano che ben comprende la verità e che si attacca come dice sempre questo famoso secondo capitolo della lettera della seconda lettera del Salonice si attaccarsi al Vangelo e all'insegnamento di sempre se noi ci si attacca a questo di fronte a tutto questo diciamo questo universo di menzogne il cristiano passa oltre e rimane saldo nella verità quando ero bambino una delle preghiere mi piaceva di più era l'atto di dolore anche oggi ma quando ero bambino ricordo che era proprio una cosa che mi piaceva tanto recitare dice peccando ho meritato i tuoi castighi e il Papa ha detto che è un'espressione troppo dura dicendo di preferire perché peccando ho rattristato il tuo cuore Dio ci castiga carezzando ha ribadito il Papa si può chiedere tutto a Dio anche se a volte siamo timidi cosa ne pensa Don Bernasco Sì proprio la liturgia di oggi il Vangelo di oggi della presentazione di Gesù al Tempio ci ricorda che Gesù è segno di contraddizione segno di contraddizione quindi salvezza per chi crede in Lui per chi accoglie il messaggio del Vangelo per chi si pente e condanna per chi invece lo rifiuta lo calpesta lo combatte e allora c'è un giudizio di Dio ecco il castigo il castigo certo Dio offre la salvezza a tutti quindi questa è volontà di Dio che tutti che tutti siano salvi che tutti siano salvati ma la salvezza dipende anche anche da noi Sant'Agostino lo dice bene in una frase famosa dice colui che ti ha fatto senza di te ti ha messo al mondo Dio senza chiederti il permesso non ti potrà salvare senza di te cioè la salvezza dipende anche da te dall'accoglienza o dal rifiuto e quindi il castigo diciamo dipende da noi quindi se noi ci allontaniamo da Dio il castigo è una conseguenza di questo allontanamento così come lo fu per Adamo e Deva i nostri progenitori e così come lo è per tutti chi si allontana dalla legge di Dio dalla grazia di Dio va inevitabilmente verso un castigo verso l'infelicità verso la perdizione perché noi siamo stati creati da Dio e in Dio c'è la nostra relazione vitale e anche il catechismo lo dice il catechismo di San Pio X lo scopo della vita cristiana è quello di conoscere Dio servirlo ed amarlo quindi lo scopo della nostra esistenza sta in Dio quando questa relazione si interrompe l'uomo non può essere felice e quindi va verso un destino di perdizione quindi il castigo in un certo senso non viene direttamente da Dio ma viene dipende da noi dipende da noi però certo Dio è anche padre e allora come un padre corregge i figli così a volte corregge anche noi perché possiamo camminare sulla strada sulla strada giusta però ecco quello che si cerca di negare è proprio il giudizio finale quel giudizio che che invece avviene nello stesso istante della nostra morte appena appena emetteremo l'ultimo respiro non ci sarà più possibilità di conversione finché siamo vivi possiamo ancora convertirci fino all'ultimo respiro pensiamo solamente al buon ladrone vicino a Gesù sulla croce all'ultimo momento ha guadagnato il paradiso ma dopo appena appena giunge la morte non c'è più tempo c'è subito il giudizio c'è subito il giudizio che l'insegnamento della chiesa chiama il giudizio particolare sia della destra di Dio Padre Onnipotente di là verrà per giudicare i vivi e i morti anche lì insomma è abbastanza chiaro è incredibile come proprio nel credo quindi allora Don Ramon Guidetti ancora dice Bergoglio il Signore dice tutti tutti coloro che sono capaci di essere battezzati quindi ogni persona io dico sempre ai confessori di perdonare tutto e confermando che in 54 anni che sono stato prete ho negato una sola volta il perdono per l'ipocrisia della persona mentre ha perdonato tutto anche con la consapevolezza che quella persona ricadrà però a tal proposito ha citato dei passi del Vangelo in cui si esplicita la misericordia di Dio ma non ha citato il passo dell'adulta la sottoposta all'apidazione ovvero chi ha senza peccato scagli la prima pietra soprattutto quando Gesù dice alla donna vai e non peccare più lui però dice di perdonare ma in realtà non perdona proprio per niente voi ne siete un esempio ma tutti i sacerdoti del piccolo resto ma anche non so mi viene in mente padre Benun che è un sacerdote del Benin che intervisto spesso che è sospeso di Vinis Stiericlan Burk insomma chiunque contraddice Bergoglio non viene perdonato invece chi contraddice la parola di Dio sì è così è un ritornello questo che l'innominato cita tira fuori lo ha fatto anche più riprese in questi anni questo di perdonare tutto e sempre e come abbiamo già detto prima non mette mai davanti l'elemento fondamentale del perdono che lo precede che è il pentimento quindi è vero all'adultra dice va e non peccare più è vero che si può dare il perdono a uno che magari ci può anche ricadere ma se in quel momento si è pentito noi non abbiamo la palla di vetro noi siamo ministri della misericordia e di fronte a una manifestazione palesi evidente di pentimento noi siamo chiamati ad accordare la misericordia poi chiaro non dobbiamo dimenticarci che la confessione che poi sarebbe il sacramento della riconciliazione è un sacramento quindi c'è una grazia quindi c'è Cristo quindi quella persona che viene perdonata riceve il perdono di Dio riceve anche la grazia ritorna in uno stato di grazia e viene riportato a riprendere il suo percorso di santità perché noi siamo chiamati a essere santi è chiaro che lui dà tutto per contatto siamo sempre lì il solito meccanismo perverso perdonare 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 e via il pentimento invece quante anime si perdono per questa cosa ma pensiamo quante anime vengono ingannate per questo per questo meccanismo diabolico di inganno proprio questo è uno dei punti più alti dell'inganno far credere che il perdono sia portata di mano senza fare nessun sforzo interiore di ravvedersi allora siamo siamo in chiusura Don Bernasconi io insomma in questo modo in questo modo di agire di Bergoglio e soprattutto il silenzio dei sacerdoti perché è un conto avere un papa che dice determinate cose ma io non capisco i sacerdoti che non urlano queste cose dall'altare e in questo modo sono complici diventano complici in questo inganno perché non vanno a informare i fedeli che qualcuno li sta portando nella direzione sbagliata e questo fa sì che i fedeli vengano ingannati quindi vengono portati lontano da Dio è questo il disegno di Bergoglio è proprio la sua volontà sì certo la volontà è chiara la volontà è quella di costruire una falsa chiesa che sia una scimiottatura della chiesa di Cristo che ne abbia solo le sembianze ma che ha altre finalità altri scopi a me viene in mente per rispondere alla domanda che riguarda i sacerdoti che fanno fatica ad uscire cioè quelli che hanno capito e stanno ancora a temporeggiare stanno ancora a tergiversare mi viene in mente quello che mi disse un sacerdote anche abbastanza conosciuto si chiamava padre Lorenzo Montecalvo era venuto nella mia parrocchia a predicare le 40 ore ero rimasto in contatto con lui poco prima che poi morisse mi mandò un messaggio dicendo dicendo che dovevo stare attento da non da non coltivare questo spirito scismatico e mi diceva dobbiamo fare come ha fatto San Francesco d'Assisi come ha fatto Santa Teresa d'Avila la chiesa va riformata dal di dentro non dobbiamo uscire fuori quindi questo è l'inganno più grande è credere di essere ancora dentro la vera chiesa cattolica ma nella comunione con l'anticristo nella comunione con uno che è strumento di Satana e nella comunione con la massoneria ecclesiale che ha preso il potere ecco lei faceva riferimento prima anche alla Santa Messa che noi celebriamo in vetu sordo per noi questa è stata una grande grazia è quella di capire bene l'inganno e quindi che non siamo noi a essere usciti dalla vera chiesa e dalla comunione ecclesiale perché la comunione ecclesiale è garantita proprio dal romano pontefice come dicono anche i documenti della chiesa il romano pontefice perpetuo e visibile fondamento e principio e fondamento della unità di tutta la chiesa ma di quale unità si parla della unità della fede e allora come si fa ad essere in comunione con uno che non ha la fede cattolica di quale fede stiamo parlando ecco dicevo che noi abbiamo capito questo e in coscienza siamo tranquilli sappiamo di non essere usciti dalla vera chiesa di cristo sappiamo di non essere scismatici di non essere eretici e il dono più bello che abbiamo ricevuto è proprio quello di celebrare la messa in vetu sordo di riscoprire la bellezza della messa della messa di sempre quella messa che stanno cambiando quella messa che è diventata illecita è diventata proibita e se fossimo ancora nelle strutture parrarchiali non potremmo neanche più celebrarla perché è stata bandita è stata messa al bando e Bergoglio in modo vergognoso con Papa Benedetto ancora vivo ha messo mano sul documento di Papa Benedetto la summorum pontificum senza nessuna autorità perché non ha nessuna autorità ma ha cercato e stanno cercando di smantellare definitivamente la messa vera la messa di sempre quella che che Cristo ci ha comandato di celebrare e allora per noi questa è la nostra forza la forza è la verità la forza è la comunione ecclesiale la forza è la santa messa quella celebrata come Gesù ci chiede la forza è la preghiera la Vergine Maria il piccolo resto si distingue per la recita dei tre rosari quotidiani tutte e tre le corone perché la Madonna ce lo chiede perché Don Alessandro se ne è fatto promotore ma è un messaggio che viene dal cielo la Madonna ci chiede di pregare i tre rosari tutti i giorni perché questo è un segno è un segno distintivo e legata a questa recita c'è una promessa della Vergine Maria è una promessa di fortezza una promessa di grazia di benedizione proprio in mezzo a tutta questa apostasia che stiamo vivendo ecco io vi ringrazio è stata una bellissima intervista e il tempo a nostra disposizione è finito quindi io ringrazio Don Enrico Bernasconi grazie a lei per l'invito per questa piacevole conversazione Don Ramon Guidetti grazie mille grazie grazie di questa opportunità perché è sempre importante comunque attraverso le interviste che hanno anche una certa una certa platea portare avanti questo questo messaggio la lotta che stiamo portando avanti la lotta per la verità grazie grazie a voi grazie e io auguro a tutti auguro a tutti una santa giornata e una buona messa e buona giornata di preghiera un saluto ai nostri telespettatori che ci seguono da casa avviso scoperto l'informazione senza veli con Matteo De Micheli